ciao a tutti ben ritrovati e benvenuti sul mio canale sono angela una passeggione in cucina e questa sera ho preparato il pollo alla cacciatora in bianco buona visione accendiamo il cupeo all'interno della ventola versiamo olio evo andiamo su manuale cottura normale temperatura elevata e facciamo riscaldare l'olio quando l'olio è caldo cominciamo ad inserire il pollo facciamo rosolare il pollo su tutti i lati vado a condire il pollo con del sale e qui e qui e qui e qui e e e e e e e e come prima metto sempre sale e pepe aggiungo la cipolla tagliata in questo modo aggiungo anche delle olive e le e e e Aggiungi un po' di acqua. A presto. Ora versiamo il vino bianco, fatele evaporare, arrestiamo questa cottura, passiamo cottura a pressione, 15 minuti. Ok, ci vediamo al termine. Cottura terminata, arrestiamo il cocheo e andiamo ad aprire. Se il trughetto vi sembra tanto, fatelo restringere, riaccendendo il cocheo, andando su modalità manuale, cottura normale e temperatura elevata e fate restringere fino alla consistenza desiderata. Anch'io sto facendo restringere il trughetto un pochino, evidentemente un bicchiere di vino bianco è un po' troppo, quindi mettetene un po' di meno. Ecco qui il piatto terminato, se il video vi è piaciuto e vi sono stata utile lasciatemi un like, se è la prima volta che è capitato qui sul canale iscrivetevi, per le notifiche c'è sempre la campanellina rossa quella sotto al video e a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione e un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta.